Presidente, il momento più importante e più bello del campionato, ancora protagonista il Pescara? Sì, sì, ma io credo che il Pescara quest'anno sia stato protagonista dall'inizio, perché noi non siamo mai usciti fuori dalla griglia play-off, abbiamo fatto anche qualche partita in vetta e quindi un campionato assolutamente positivo. Sicuramente saranno i play-off più incerti di sempre, questa è la mia sensazione, Pescara-Verona una sfida per tanti motivi, tutt'altro che banale. Una sfida tra due squadre che si sono sempre incontrate per obiettivi importanti, noi abbiamo avuto una grande gioia contro il Verona nel riportare il Pescara in Serie B dopo tanti anni e adesso ci tocca giocarci una fetta importante di questo campionato contro di loro, non dobbiamo guardare ai vantaggi e alle cose che possono venirci in mente. Cioè niente calcoli, i due pareggi che sarebbero sufficienti? Ma io credo che non bisogna fare calcoli perché ieri sera la partita del Verona ha insegnato questo, Verona hanno fatto, anche loro hanno fatto i calcoli, la partita era quasi finita, prendi un rigore e si riapre il tutto. Se non hanno quell'espulsione magari la partita è aperta a tutti i risultati e quindi in queste partite qui non bisogna fare calcoli. A Presidente Sebastiani lo conosciamo ormai da dieci anni, piace anche parlare tecnicamente. Com'è cambiato il Verona da Grosso ad Aglietti? A me personalmente il Verona di Grosso piaceva, giocava bene, creava tante occasioni da gol. A mio avviso Fabio è stato un po' sfortunato fino alla partita di Pescara, poi dopo la successiva l'ha persa in maniera brutta. Però il Verona di Grosso secondo me giocava bene, adesso credo che gli interpreti siano gli stessi, hanno grandi giocatori, una squadra costruita per vincere questo campionato, non per arrivare ai play-off. Sono lì anche loro e giocheranno con il coltello tra i denti perché comunque la piazza è importante e aspetta un risultato importante come l'aspetta Pescara. Presidente ci sono state tante polemiche in settimana per quello che è successo, insomma i noti accadimenti, Palermo retrocesso all'ultimo posto della classifica, ne ha beneficiato naturalmente il Pescara e non solo ma soprattutto il caso Foggia, questo regolamento che era inizialmente in un modo poi è cambiato in corso d'opera. E' stata chiesta un'interpretazione dai legali che hanno sulla base delle norme NOIF ci hanno rassicurato sul fatto che le tre squadre che erano già retrocessi era il verdetto del campo e la quarta sarebbe stata quella d'ufficio. Quindi adesso c'è un ricorso, mi sembra che la federazione abbia chiesto un parere al CONI. Il parere del CONI è consultivo e non è vincolante, è già tutto deciso? Beh, non è ancora tutto deciso, però vedremo nei prossimi giorni. Che Serie B sarà da oggi in poi? Sperando che il Pescara sia solo di passaggio? Spero che sia una Serie B più attenta ai conti, perché poi questo è quello che magari non fa piacere ai tifosi, non fa piacere alla gente, però poi alla fine dell'anno quando si assistono a queste situazioni dopo la gente si rende conto di che cosa significa essere a posto e non essere a posto. Noi siamo a disposizione, come ho sempre detto, con offerte serie da persone serie. Quanto vale il Pescara oggi? Non lo so, poi ci saranno i tecnici che diranno quanto vale, perché questa società è stata sempre bistrattata e evidentemente se interessa a qualcuno qualcosa di buono ha fatto. Quindi qualcosa di buono patrimonialmente ce l'ha, ha una rosa di giocatori, un settore giovanile molto importante. L'esposizione è assolutamente fisiologica, quindi a mio avviso chi vuole venire si vede le carte, si legge i numeri e poi ci faranno offerte. Certo non accettiamo le offerte così da mercato. Più o meno ha un'idea il Presidente? Non c'è un più o meno. Qua l'unico che è disponibile e possibilmente può comprare il Pescara è Marinelli a Pescara, che il resto è tutto da buono. Ma Marinelli quando sente che deve cacciare i soldi scappa.